Presentato il progetto Pordenone, una serie di corti cinematografici realizzati dai ragazzi dell'associazione culturale Astro che vedono come protagonista la città sul noncello. Il giorno dopo l'audizione in commissione sanità della regione che chiude le porte ad ogni ripensamento sul punto nascite di Sambito al Tagliamento sale la polemica. Il cantautore Pablo Perissinotto porta al suo spettacolo le parole d'Italio su bullismo e cyberbullismo sul palco del cinema Turroni, all'interno dello spettacolo anche la testimonianza di alcune vittime. La storia della street art in mostra a Caorle 70 opere italiane e internazionali ricostruiscono l'evoluzione di un genere artistico che in parte è ancora oggi misterioso. Ben ritrovati con l'informazione di Media24. Partiamo da Pordenone, è stato presentato il progetto Pordenone, sette corti cinematografici realizzati dai ragazzi dell'associazione culturale Astro che vedono come protagonista la città sul noncello. Abbiamo intervistato Gabriele Pillon dell'associazione Astro. Vediamo il servizio. C'è ancora qualcuno che sostiene che i giovani di oggi non abbiano nulla da dire e siano privi di spirito di iniziativa. Niente di più sbagliato e a dimostrarlo sono i ragazzi dell'associazione culturale Astro su Dalizio di Pordenone che coinvolge decine di ventenni della città impegnandoli in attività teatrali e di animazione offrendo loro nuove opportunità di partecipazione e apprendimento. Astro è un'associazione che nasce nel 2009 tramite il presidente Jimmy Baratta e due collaboratori Marvin Rida e Giulia Piccolo che sono due educatori professionali. Tanti ragazzi per i ragazzi perché il presidente non mi stancherò mai di dirlo ha 42 anni e poi c'è un balzo di 20 anni praticamente perché poi tutti gli altri associati in realtà si muovono tra i 20, 25, 26 anni massimo e per la maggior parte siamo tra i 20 e i 22 in realtà. Nel tempo l'associazione si è espansa moltissimo, siamo partiti e facciamo ancora teatro, formazioni, formazioni animatori, gestione di eventi, però per noi adesso è arrivato anche il momento evidentemente del cinema e per noi è stata veramente una bellissima possibilità. Abbiamo gestito un po' tutto di questo progetto, dall'organizzazione burocratica, convocazione comparse, gestione del casting, le riprese. L'idea alla base è quella di valorizzare la città di Pordenone attraverso la realizzazione di sette corti cinematografici che con un fil rouge poliziesco e in realtà vogliono attraverso tante immagini di Pordenone e le musiche originali composte da Lorenzo Tomadon della scuola di musica città di Pordenone, vogliono veramente valorizzare la città, raccontare la nostra città in modo che possa essere vista veramente sotto uno sguardo diverso in primis dei pordenonesi ma poi anche dal resto del mondo in realtà. Ci sono degli scorsi che io stesso ho riscoperto di Pordenone che non pensavo quasi ci fossero o magari appartenevano alla mia infanzia, è stato veramente bello riscoprirli così tutti quanti assieme e lavorando appunto per Pordenone alla fine. La vicenda raccontata in questi sette corti ruota attorno alla figura del commissario Santarossa, pordenonese d'origine che ritorna in città dopo vent'anni per combattere la minaccia di un criminale intenzionato a distruggere Pordenone. Le sue indagini saranno l'occasione per ritrovare un amore passato e per riscoprire la bellezza della sua città che dopo vent'anni è cambiata in meglio. Abbiamo coinvolto tantissime associazioni, le scuole, il cero artistico Galvani di Cordenone, abbiamo coinvolto l'Isis Zanussimoda, la scuola sperimentale dell'attore, abbiamo coinvolto le associazioni, anche la Ginestra APS che è un'associazione che si occupa a tempo libero per persone con disabilità ed è un nostro partner con cui lavoriamo da tanti anni e è stata veramente una bellissima risposta in generale, anche e soprattutto da parte dei giovani. Il progetto ha preso il via grazie al supporto dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Pordenone e Cammin Facendo si è strutturato sempre più grazie all'abilità dei ragazzi di Astro che hanno coinvolto con entusiasmo l'intera città. La proiezione ufficiale dei corti avrà luogo venerdì 10 maggio alle 20.30 presso il Cinema Don Bosco in Viale Grigoletti. Tutti sono invitati a questo evento con ingresso gratuito per il quale sarà sufficiente prenotarsi scrivendo a eventi-associazioneastro.it E il giorno dopo si continua a parlare del punto nascite di San Vito al Tagliamento. Ieri in audizione a Trieste sono stati ricevuti in Commissione Sanità i primi firmatari della petizione popolare e i consiglieri regionali di minoranza. Nulla di fatto, l'assessore regionale Riccardi ha confermato decisione e motivazioni soprattutto per la chiusura del punto nascite. Sale la polemica, tante le voci, si cerca una strada alternativa. Abbiamo sentito il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozella. Vediamo il servizio. Oggi si discute in consiglio regionale sulla chiusura del punto nascite di San Vito al Tagliamento e ovviamente io ritengo per chi come me 50 anni or sono ormai è nato in quella struttura lì fa male al cuore ma non solo per un fatto diciamo affettivo o melanconico ma anche per il fatto che il punto nascite di San Vito al Tagliamento era una vera e propria eccellenza, tra l'altro un sistema integrato riconosciuto dall'UNICEF, diciamo divulgava l'allattamento al seno delle mamme insieme al consultorio locale venivano organizzati corsi di premaman nella piscina comunale di San Vito al Tagliamento e quant'altro. Quindi una vera e propria eccellenza, un vero e proprio punto di riferimento, un vero e proprio sistema integrato. Tutto questo non ci sarà più ed è incredibile pensare che la stessa forza politica che oggi guida la regione e chiude un punto nascita si proclami poi pro vita, pro natalità, pro mamme, in realtà chiudendo i punti nascita. La scuola media di Azzano Decimo Luzzatti rappresenterà la regione Friuli Venezia Giulia nella finale di Roma del concorso Macro Scuola 2023-2024, lo sport rigenera la città, promosso dal gruppo giovani imprenditori edili di Ance Alto Adriatico, l'associazione di rappresentanza dei costruttori edili industriali delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste. Il concorso Macro Scuola, arrivato alla sua terza edizione, ha chiesto a studenti e studentesse di lavorare a un progetto di riqualificazione che mettesse al centro le aree e le infrastrutture sportive, spazi che assumono sempre più un valore sociale e che rappresentano un luogo di aggregazione importante soprattutto per i giovani. Abbiamo sentito il presidente di Ance Giovani FWG, Luca Spagnol. Vediamo il servizio. Luca Spagnol, presidente di Ance Giovani FWG, è conclusa la prima fase del concorso Macro Scuola, sono stati scelti i rappresentanti regionali che rappresenteranno la regione a Roma. Sì, dopo un lungo percorso fatto nei scorsi mesi insieme a dieci classi del Friuli Venezia Giulia, delle scuole medie. Abbiamo scelto, sui dieci progetti, abbiamo scelto il progetto della scuola di Azzano Decimo, la scuola media Luigi Lausati di Azzano Decimo, che rappresenterà il Friuli Venezia Giulia il prossimo 29 maggio presso la sede del Lance, dove si confronterà con tutte le altre vincitrici delle regioni d'Italia per poterli vedere se riescono anche loro a entrare nel podio per la prima volta, perché il Friuli Venezia Giulia dopo tre anni è riuscito a entrare a livello nazionale con dei progetti, quindi spero proprio che questa scuola riesca ad entrare almeno nei primi tre posti, però anche se non entra nei primi tre posti penso che sia un'esperienza bellissima per i ragazzi e anche per i docenti sviluppare questo progetto di rigenerazione sportiva all'interno delle proprie città, perché per noi imprenditori ma anche per le amministrazioni penso che sia una cosa carina e anche giusta vedere come i giovani di oggi vorrebbero vedere la propria città svilupparsi e rigenerarsi anche nel mondo sportivo. Quindi l'appuntamento è il prossimo 29 maggio a Roma, corretto? 29 maggio presso la sede nazionale di Ance nazionale a Roma, sì. Il progetto della scuola media di Azzano è stato scelto tra i primi tre selezionati, due erano proprio i primi due della scuola media, i progetti del Bel Belluz e il progetto Mascherin Fre, e mentre il terzo era il progetto Stiamo Bene dell'istituto comprensivo Celso Macor di Mariano del Friuli in provincia di Gorizia. Selezionato quindi a partecipare il progetto del Bel Belluz, del primo gruppo di studenti della scuola media di Azzano Decimo. Abbiamo sentito il presidente di Ance Alto Adriatico, Elvis Santin. Vediamo il servizio. Ci sono le finali di macroscuola, una classe di Azzano Decimo rappresenta la regione Friuli a Roma, ma non è l'unica azione che Ance sta facendo nei confronti delle scuole. Infatti continuano le visite in cantiere per le aziende della categoria. Sì, da sempre Ance crede nella formazione e quindi la formazione parte soprattutto dalla piccola età, parte dall'educazione, parte dal rispetto che poi si porta nel mondo del lavoro. Con Macroscola si agisce nelle scuole medie e siamo molto contenti di portare anche quest'anno una classe a Roma e le premiazioni. prosegue poi con le visite in cantiere dirette dedicate alle scuole superiori. È molto importante e soprattutto molto interessante perché i ragazzi vedono dal vivo, cosa che non gli è sempre facile o non gli è permessa, vedono dal vivo qual è il mondo del lavoro nel settore delle costruzioni. Quindi sono molto interessati, fanno delle domande pertinenti e oltretutto durante le visite di cantiere danno anche degli spunti non da poco. Quindi continuiamo su questa via perché la via della formazione poi oltre che a formare persone competenti e che abbiano successo nel mondo del lavoro fa binario con la sicurezza. Essere formati e competenti fa sì di poter entrare in un posto di lavoro sia nelle costruzioni o in altri ambiti ma che l'approccio sia quello della competenza e di sapere cosa si va a fare. Infatti Ance lascia anche dei gadget agli studenti che vanno in visita. Sì, per poterli agevolare nelle visite noi come Ance abbiamo donato dei gilet visivi, abbiamo i caschetti, le scarpe antifortunistiche e quando c'è possibile poi diamo anche tutti gli elaborati tecnici di cantiere in modo tale che in classe poi con i docenti vedano dal vivo quali sono gli elaborati grafici reali di lavoro. Quindi in prospettiva hanno un assaggio di quello che andranno a fare. Siamo in collegamento con Lorenza Nardo, titolare del Barbarocco di Azzano Decimo, perché ormai Lorenza non si ferma più. Dopo l'esperienza bellissima a Sanremo all'inizio dell'anno, domenica sarà a offrire i suoi super cocktail agli attori anche hollywoodiani che saranno presenti al Riviera International Film Festival a Sestri Levante. Allora, buonasera Lorenza, complimenti. Buonasera. Ci racconti com'è arrivata questa super occasione direi. Beh innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Niente, è stata una cosa molto inaspettata per noi perché abbiamo collaborato sia a Sanremo che poi collaboreremo anche a Venezia a settembre con questa agenzia che si occupa di tutti gli eventi paralleli, di tutti gli eventi circostanti, di queste manifestazioni e ci hanno appunto chiesto di partecipare, di somministrare i gin che evidentemente sono piaciuti a Sanremo proprio in occasione di questo Riviera Film Festival che si terrà, cioè che si sta già tenendo in realtà dal 5 di maggio e termina il 12. E niente, è stata inaspettata come cosa è arrivata ieri, quindi sono riusciti diciamo a inserirci in corsa. Ovviamente noi non abbiamo proprio saputo dire di no e quindi domenica mattina partiamo all'insegna della Liguria. Un viaggio avventura. Un viaggio avventura sicuramente anche perché è organizzato velocissimamente. Ma come ci si prepara ad un evento del genere? Nel senso, trovi tutto là? Tanta camomilla la sera prima, di solito. Ma trovi tutto là? Ti mettono tutto a disposizione o ti devi portare? Questa volta noi ci portiamo tutto, quindi creiamo un buffet proprio da pericena la sera, la notte diciamo, e poi lo portiamo all'interno dei coli, ma ovviamente per preservarne la freschezza, lo portiamo fino a Liguria. Mentre invece per quanto riguarda le bottiglie di gin, anche quelle le portiamo noi, tutto il resto invece viene fornito proprio dall'agenzia. Quindi tutto il resto è lì. Inventerai un cocktail particolare come per Sanremo? Credo proprio di sì, insomma. Ogni manifestazione deve avere per parte di cose il suo cocktail, quindi noi giriamo molto intorno al gin perché ci piace creare tutte le varie cose, ci piacciono i gin particolari, adesso ne abbiamo acquistati di francesi, di tedeschi, insomma ci piace proprio attraversare questo mondo di gin tutti quanti diversi, quindi sicuramente la base sarà quella. Ora vedremo cosa riusciremo a creare noi tre menti sabato. Allora io giusto per dare l'idea a chi magari non segue il Riviera International Film Festival, vedo un elenco di ospiti stellari dagli italianissimi Raul Bova, Ambranzolini e Zoo a scendere, ma star hollywoodiane come Susan Sarandon. Quindi noi ti rivolgiamo qui assolutamente lunedì, martedì appena torni e ci racconti cosa hanno bevuto, cosa preferiscono e come sono. Assolutamente, assolutamente molto volentieri. Allora grazie a Lorenza per essere stata con noi, in bocca al lupo per domenica e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a Lorenza Nardo. Ma ciao, sei molto volentieri. Viva tutto. Grazie. Grazie a te. Appuntamento domenica ormai tradizionale a Pordenone Fiere per la 27esima edizione di Naonis Con, Pordenone Games and Comics. Si tratta della principale manifestazione dedicata al mondo del gioco, del fumetto e del cosplay del Friuli Venezia Giulia, tra le più grandi del Triveneto e sicuramente tra le più longeve d'Italia. Saranno presenti in centinaia tra espositori, associazioni, collezionisti ed autori questi ultimi fiori all'occhiello dell'edizione di quest'anno. Saranno infatti oltre 80 a partecipare tra fumettisti, illustratori e game designer. Come da tradizione, il sabato pomeriggio, il ciclo di conferenze, idee che divertono, si terrà all'auditorium del Museo del Fumetto. Quest'anno, con il sottotitolo Esplorazioni, le conferenze esploreranno diversi temi come il doppiaggio, il manga al di fuori del Giappone, il rapporto tra gioco e storia contemporanea e l'influenza del gioco di ruolo più famoso del mondo. Domani sera, alle 20.45, a Cinema Zero, nell'ambito della Settimana della Cultura Friulana, a cura della Società Filologica Friulana, la Cineteca del Friuli presenta a Pordenone, in collaborazione con Cinema Zero, tre dei cinque documentari raccolti nel DVD Vaillant 60, documentari 1961-1966, pubblicato dalla Cineteca in occasione dei 60 anni dalla catastrofe, che il 9 ottobre 1963 causò la morte di quasi 2.000 persone a seguito della frana staccatasi dal Monte Toc e precipitata nell'invaso della diga del Vaillant. L'appuntamento è a ingresso libero. Parteciperanno alla serata il vicepresidente della Società Filologica per il Friuli Occidentale, Franco Colussi, e a introdurre la visione al pubblico il professor Carlo Gabershek, curatore del Blu Klet che accompagna il DVD, di cui gli spettatori potranno ritirare una copia in omaggio. Per chi invece preferisse la musica, sempre domani sera, alle 20.45, a Palazzo Ragazzoni a Sacile, riprendono i concerti a Palazzo, una rassegna dedicata ai giovani talenti. L'FVG International Music Meeting, organizzato dall'Ensemble Serenissima, in senergia con il Comune di Sacile e con il sostegno della Regione, ospita il duo composto dalla violinista Mila Franetovic e dal pianista Stefano Zeitler, formatosi al Conservatorio di Riva del Garda, ospite in diversi concerti per importanti associazioni e in prestigiose sedi. Siamo in collegamento con la dottoressa Aurora Borgolotto, che porterà la sua testimonianza all'interno di uno spettacolo, lo spettacolo Le parole di Taglio, che sarà al Cinema Turroni domani sera alle 20.30. Lo spettacolo è di e con Pablo Perissinotto, notissimo cantautore locale, che ha costruito questo spettacolo, Teatro Canzoni, contro il bullismo e il cyberbullismo. All'interno dello spettacolo anche alcune testimonianze. E abbiamo appunto con noi la dottoressa Borgolotto, che domani, venerdì sera, presenterà la sua testimonianza. Dottoressa, intanto grazie di essere con noi. Le chiediamo un breve assaggio della sua testimonianza. Intanto grazie a voi per avermi invitata e buongiorno a tutti. Sì, questo spettacolo è nato con l'intento di parlare in prima persona di quello che è il tema del bullismo, non trattando di retorica, ma trattando delle vite, delle realtà vere e proprie, e quindi delle persone che soffrono di bullismo. Questo è l'intento, cioè quello di arrivare ai ragazzi, alle ragazze che soffrono di bullismo, ma soprattutto far capire come può essere la sofferenza e ciò che può provare vivere uno ragazzo o una ragazza che soffre di questa esperienza. Io porterò sul palco la mia storia, perché durante le scuole medie ho subito bullismo a causa della mia disabilità. Infatti io sono una ragazza non vedente a causa di una sindrome che si chiama sindrome di Alström che colpisce vari organi, tra cui la vista. Posso chiederle in cosa si è manifestato il bullismo che ha subito? Sì, certo. Non voglio dire troppo, perché poi racconto proprio questo all'interno dello spettacolo, perché il mio intento è quello di condividere la mia storia di vita con tutti coloro che vorranno venire a sentirla, perché possono immedesimarsi almeno in un pezzettino della mia storia e perché magari anche essi stessi nella loro vita hanno in qualche maniera anche solo un aspetto di quello che ho vissuto io. Sì, no, volevo solo sapere se si è trattato di bullismo nel senso di atti fisici oppure psicologici, solo questo. Sì, certo. Allora, se parliamo di atti fisici come maltrattamenti o comunque venire picchiata o atti simili, no. Io ho subito maggiormente atti psicologici ed è anche un po' per questo che lo spettacolo si chiama Parole di Taglio, perché il taglio è un metallo pesante e quindi uno dei messaggi dello spettacolo vuole proprio essere che le parole fanno male e sono molto dolorose e possono essere anche più pesanti delle azioni. Ho subito però anche alcune azioni, diciamo, ma non pesanti, ecco. Ho capito. Così, a titolo informativo, diciamo che lei ha frequentato le scuole locali nella provincia di Pordenone che poi comunque, superata questa fase, direi brillantemente, è andata all'università, si è laureata e sta proseguendo gli studi, quindi comunque non si è fatta schiazzare da quello che ha subito. Sì, ecco, infatti, uno degli obiettivi di questo evento, di questo spettacolo è proprio questo, di far capire che nonostante le ferite, nonostante il dolore, nonostante la sofferenza, si può affrontare l'evento traumatico qualunque so sia e andare avanti con l'aiuto delle persone, con l'aiuto di se stessi, cercando anche di fare di un evento doloroso invece una risorsa. È un po' questo quello che io faccio raccontando la mia testimonianza in questo spettacolo. E noi la ringraziamo per averla condivisa anche un po' con noi. Invitiamo tutti a partecipare domani sera al Cinema Turroni a Oderzo, a vedere lo spettacolo e a sentire le testimonianze. Diciamo che l'ingresso è libero, quindi non c'è neanche la scusa del biglietto da pagare. Grazie, dottoressa. Io vi aspetto a tutti. Grazie a voi. Ogni giorno centinaia di operatori del gruppo Veritas Veritas lavorano per tenere pulite le nostre città utilizzando vari mezzi e camion. Bambine e bambini sotto i 12 anni, accompagnati dai genitori, potranno esplorare questo mondo, salendo sui mezzi e vedendoli in funzione, accompagnati naturalmente dal personale di Veritas. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere l'importanza della raccolta differenziata e le politiche generali di mantenimento del decoro e della riduzione dei rifiuti urbani. Non è richiesta la prenotazione. L'iniziativa si terrà a Bibbione, in piazza Mercato, domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30 e a Porto Gruaro, sempre domenica, in piazza della Repubblica, dalle 15 alle 18.00. E domani, a Caorle, apre ufficialmente la mostra Basquiat Heiring Bansky sulla street art. Vediamo il servizio. Apre domani al Centro Culturale Baffile di Caorle la mostra evento Basquiat Heiring Bansky, The International and Mysterious World of Street Art. Una mostra con 70 opere provenienti da Italia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Un lungo viaggio dalla nascita del graffittismo nella New York di fine anni 60 ai nuovi protagonisti. La mostra racconta infatti l'evoluzione di un linguaggio che appare e scompare, lasciando tracce inequivocabili del suo passaggio sui muri di tutto il mondo. Per i visitatori sarà un viaggio tra lavori su tela, legno, carta, serigrafie firmate, poster, memorabilia, oltre ad una selezione di disegni preparatori forniti direttamente dagli artisti selezionati dopo oltre due anni di ricerca e concessi in via esclusiva al comune di Caorle con l'obiettivo di indagare la street art dalla sua nascita fino ai giorni nostri, comprendendone le evoluzioni e i significati. La mostra spiega al curatore, Matteo Van Zand, direttore artistico di MV Arte, è strutturata per essere un'indagine scientifica, oltre che artistica, sul fenomeno generazionale della street art, partendo dalla nascita del graffittismo nella New York di fine anni 60 per arrivare ai nuovi protagonisti contemporanei. Vogliamo porre al visitatore, ha detto Van Zand, una serie di interrogativi che parlano di una sottocultura indomabile, affascinante e misteriosa e per molti versi ancora avvolta nel mistero, che all'improvviso è emersa dall'underground per riversarsi nei canali mainstream, grazie ad alcuni protagonisti indiscussi, Basquiat, Ehring e Bansky. La mostra resterà aperta al pubblico fino al primo settembre prossimo. E questa era l'ultima notizia di oggi. Vi lascio alla programmazione di Media24. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.